Ciao, sono Stefano Savini, siamo qui in Urivalo di Cotignola, vi faccio vedere le nostre piante di gruppo da collezione, come potete vedere abbiamo il limone, abbiamo l'arancio, abbiamo il pompelmo, questo pompelmo qui è un pompelmo giallo, ha dei frutti che sono bellissimi, è coltivato adesso in un vaso di 40 cm di diametro e ha i frutti che sono pronti da raccogliere, questo qui ha la stessa problematica dei limoni, ha bisogno di temperature abbastanza alte, non deve andare sotto i meno 2-3 gradi di temperatura, però può sopravvivere, dove può sopravvivere un limone comune sopravviva anche il pompelmo, però ha una potenza incredibile perché ha un tronco molto grosso e quindi ha una forza vegetativa molto molto vigorosa, potete acquistarlo nel nostro sito, lo spediamo in un bancale fino a casa vostra, così potete gustarvi questo meraviglioso frutto, ciao da Stefano Salini